Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui in un altro vlog e, indovinate un pochino Sì, indovinate un pochino, oggi faremo il mio primo Franci risponde Scusate se alcuni mi avete fatto domande a giugno e adesso le rispondo Adesso ma non ne ho avute molte, vabbè, altronde E mi raccomando, per il prossimo vlog non voglio like ma voglio domande, mi raccomando Mandatemi delle domande, vi prego, cioè, così le rispondo, no? Se vi piace, come lo faccio, se non vi piace, vabbè, non me le fate domande Mi potete chiedere di tutto, non soltanto sui poni ma questo oggi diciamo che è un pochino sui poni Molto spesso farò dei post su Google+, che voi mi potete dire, non le potete fare lì sotto, sotto i video Sempre scrivendo hashtag Franci Grazie mille a tutti quanti E niente Allora, quindi oggi risponderemo un pochino alle domande Se un giorno, un giorno lontano, me li farete, che ne so, per un vlog tante Io, se non le risponderò, le risponderò nel vlog successivo, naturalmente, per non fare ingiustizie Vi voglio tutti quanti bene Bene, amici Niente altro Scusate Ehm, vabbè, iniziamo Iniziamo Vi devo dire Non ci sono altre information Ehm, ho visto che il mio primo... Sì, quello lì Non mi affendo Mentre ringrazio tutti i mi piace che ogni giorno aumentano di più E quindi vi ringrazio quando vi sto sempre vedendo il numero di iscritti E piango sempre di più Grazie, vi voglio un sacco di bene Anche se non è che ne ho moltissimi Però non mi voglio allungare perché dobbiamo fare i vlog Allora, ragazzi, se non avete letto, io ve le rileggo Allora, MLP channel Greta che saluto Ciao Greta Perché la conosco E mi chiede Quanti MLP hai? Ehm, ne ho... Di grandi Cioè, come questa Dieci, no, qua Doddi, no Quattordici che li do Scusate E che Alcuni li tengo qua E diciamo dodici, quattordici Ne ho pochi Purtroppo Perché ho incominciato la collezione in questi giorni Diciamo Quando ho pubblicato la review di Cadence E Applejack Lì ho incominciato la collezione Dei piccoli Come mai ti piacciono? Ehm, perché Una volta A parte che mi piace il cartone Però una volta da piccolo Andai all'edicola E la trovai Una bustina dei Maletalpony Mi piacevano Poi tutti quanti fanno i video Su questi Maletalpony Naturali che vedendo tutti con la moda Poi, cibo preferito Ehm, credo pizza Bibita preferita Tipi da Ehm, capito Ok Li seguirai? Certo Però mi risponderai E ciao 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 Greta Ti saluto Iscrivetevi al suo canale Princess Silvia Channel Ok Quanti anni hai? Te le dici Quanti anni hai? Te le dici Animale preferito Ehm Odio molto gli animali Ma il gatto e la giraffa Questi due Il gatto e la giraffa Non c'è la giraffa Perché? Forse perché Vista simpatica Certo Possiamo essere BFF O BFF Come preferisci Preferirei BFF Perché non sono un pony Cioè Nella realtà sono umano Poi Prendi Rainbow Blitz E fallo baciare con Rainbow Dash E ne ho Userò Un'altra Ehm Sansi Simmer Si ingelosisce Butta Rainbow Da un'altra parte Blitz dice Che schifo Va da Rainbow La ribacia Se un set si arrende E si butta Dalla finestra Perché volete farmi Rirassare Cioè User of Fluttershy Rainbow Dash Non si tu E' il mio E' il mio Cioè Non neanche Vabbè Interpretazione User of Fluttershy Grazie Oh Fluttershy Quanto sei carina Grazie anche tu Che schifo Ok Lo so Lo so Oddio Mlp Fluttershy Channel Mi chiede Animale preferito Gatto Giraffa Che canali segui? Molti Mi dispiace Non ti so dire Quali Ma molti Di sicuro Tutti quelli Che commentano Mi scrivo Perché Non sto così mai Su Facebook Su questi Social Network Mi guardo i video Lo dovete sapere Che fa Questa Quali canali adoro? Le adoro tutti Ma Quelli che Più visito Sono Mlp Channel Glory Mlp Diamondelove Channel Irish Chest Poi canali americani Sofia Viscardi Greta Munchi Da questi Potresti fare altri tipi di versione Certamente E Ciao Poi Mlp Diamondelove Channel Mi fa domande Da un sacco Quindi Ok Fai tipi di versione Su GPU Su Google Plus Certo Lo farò Anche se Non c'è molto da dire L'ho fatto E L'ho fatto Su Yook Poi Mi tampo La tua reaction E la ragazza In questo modo Ho fatto Questo video Perché È un diario Di sopravvivenza Io volevo Parlare Del fatto Che c'è Ancora gente Che fa colazione Con i cucchiai Liamo Ha detto Ha detto Esplicitamente Ad X Fatto Stazione Numero 36 Che odia I cucchiai Voi cosa fate? Colazione Dico io Colazione C'è ragazzi Ma si fa con la forchetta Ma si sta a scherzare Pan di stelle Forchetta Forchetta C'è ragazzi Ma non vi vergognate Non vi sentite Delle True Direction No C'è ma poi Io dico C'è voi Come me L'ho fatto Allo screen Quando Cellulare Poi date Poi date Del Bip A Luis E azza Amazza Di azza C'è ma Un insulto Che vergogna Poi Io mangio Le carote In questo modo Perchè a Luis E a Luis E a Luis Appiazzano Le carote In questo modo Perché a Luis Appiazzano Le carote Quindi In questo modo Ricapitolando In questo modo Io posso essere Ragazza di Luis Perchè sta con me Non sta con Harry Sta con me In questo modo Perchè mangio Le carote E soprattutto Per questo Quindi Diventate True Direction In questo modo Perchè Quando Dovete Pizzone Non mi vengono Le lacrime Che era In questo modo Solo a pensarti Mi batte il corassone Come il mondo Tipo E Però Io non sono L'Indiana Se non mi dovete Spalmiamo La crema Cleo In questo modo Lo giuro Che ti uccido In questo modo Video di sopravvivenza Nessuno sopravviverà Qua Mi chiede di nuovo Di imitare Di imitare La True Direction Ma Già Lei si è arrabbiata E poi Mi ha fatto Un commento Non mio E risponderò In questo modo Quale sarà Il tuo prossimo Acquisto Di MLP Credo Princess Luna La Fashion Pony Perché La voglio Nadia Pai Channel Ti saluto Ciao Nadia Mi chiede Quanti pony hai? L'ho detto E ne ho 14 Credo Ti fai vedere La tua collezione Vi faccio vedere Quelli grandi Solo Blitz Poi Flatti Sunset Shimmer Honey Lise Senza Ani Io Applejack Scusate Tutta Bellissima Un attimo Che arriva Rainbow Dash Poi ho Cadence Beh Cadence Poi Flower Flower Wishis Della Cutie Mark Magic Poi ho Twilight Sparkle Pinkie Pie Eccola qua Pinkie Pie Semplice Le Mintix Ce le ho tutte Semplici Poi ho Diamond Mind La Faltershy Che muove le zampe E poi ho Sterling Princess Sterling Che non si vede Come al solito E poi ho La mia versione pony E credo di averne altri Ma non lo so Cioè Ho un Boh Cioè Questi sono quelli lì Che ho recensito Fino ad ora Però voi non l'avete visto L'avete visto Sua la review Di Princess Kedens Ok Poi Fai cantare a Pinkie Pie Love Me Like You Do Ok Pinkie Pinkie Ciao Devi cantare Ok Love Me Like You Do E' meglio di no Per favore Non voglio Non voglio Voglio perdere L'udito E Alienator Is a Moonlight Credo Comunque Melody Power Perché mi ricordo il tuo nome Quale Quale Tuo animale preferito Gatto E Come Si chiama Giraffa Quale Tuo colore preferito Azzurro Prendi Rainbow Blitz E Fai baciare Twilight Poi Arriva Applejack E Dice Si sono baciati Per la prima volta Intanto Sunset Canta Love Me Like You Do E Rarity Che non ho Canta Brickie La canterò io Perché mi piace La farò dopo Ti piacciono Gli horror No Però Mi incuriosiscono Quindi Se lo vedo Dall'inizio Non lo devo vedere Fino alla fine Però che faccio Salmi tutti E Ti sta simpatica Certo Tu sei il mio manager Lo devi proteggere Da questa pazzoide Incamina Da Yamp Forse io sono La pazza E Tu hai La Più Grande Di me Però Io ti devo dire Una cosa Da tempo Anche Oblizzi Io Io Ti Ti Mi sono baciati Per la prima volta Andiamo a Rio 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 Anche se Blitz Sarebbe mi fidanzato Scusa Ma a me Mi piace Tanto Ehi Ma che cavolo Oh Adesso mi sto stancando No 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 E poi No Dobbiamo andare A Rio 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 Io Mi faccia vedere Come si canta Siete dei perdenti In tutto Postatevi Loser Allori Allori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Volevo farti le domande All'Ura Pony preferito, Rarity Cibo preferito Pizza Pony odiato Mi piacciono i LPS Certo che si Animale preferito Giraffa o gatto Fai vedere Twilight che sclera con Cadence E fa sul balcone Chi me l'ha fatto fare Chi me l'ha fatto fare Fai dire a Sunset Questa è Sparta Arriva a Flatti No, questa è Atene E incominciano a litigare E si buttano Quello che hai Le due tue Continuiamo Pony a caso Ma non Fanno bene con la testa Vado a chiamare Il 111 Ok, spero bastino Certo che bastano Sono molte Sono moltissime Ok, vai Sai cosa sei? Cosa? Sai cosa sei? Sai cosa sei? No, non lo so Me lo vuoi dire? Una gran cafona Non lo facciamo sul balcone Oppure grulliamo Com'è possibile? Io sono una gran cafona E tu cosa saresti? Io sono molto più intelligente di te Adesso lasciami in pace Perché sei una vera imbecille Come te Oh E chi me l'ha fatto fare Di sposare il fratello Di questa maledetta ragazza Pony Quello che è Secondo me è una cacchina Chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Questa È sparta Ti sbagli Questa è Atene Che vogliamo fare? La lotta? Ho vinto Non mi sembra proprio Bene quella testa Vado a chiamare Il 118 Io sono conto Un 109 Io sono conto Un 109 Un 109 Un 109 Però poi questi Lo vado a chiamare Anzi Vado a chiamare Il 1009 Vengo con te non so che significa essere alla moda la morte di gunter adesso ci sarà solo purtroppo il franzo risponde finito qui ma se vi è piaciuto mi raccomando fatemi domande e mi raccomando fatelo per tutti noi non solo per me ma fatelo per i pon fatelo per noi vi prego fateci tante domande altrimenti no scherzo mi raccomando fatemi delle domande se avete visto un telefono sarebbe la tv tv dei poni non so è che un telefono ho finto e lo usavo ho dato il mio fratello per fare la tv dei poni e lo tenevo qua vicino e niente vi faccio rivedere tutti i poni ciao ragazzi ciao mi raccomando tante domande questo è sport non so no questa fine e io canto la tv e tu sei morta già di più ciao io sono il finca e gunter è ritornato noi non cediamo niente però bene ciao ciao ragazzi mi raccomando la prossima volta visto che adesso vi ho fatto vedere un po' i poni che ho potete fare le domande anche a tutti i poni che ho se volete anche i miei e altri giochi vabbè ciao ragazzi al prossimo video mi raccomando tante domandine che ho poi vi saluto e mi trovo ai vostri canali se non ci hanno inscrito ma li saluto vi voglio un mondo di bene ciao salutate ragazze ciao mi raccomando domande 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 forchetta cucchiaio forchetta cucchiaio forchetta io avevo detto forchetta ho paura che dovrei dire io ma tu sei così alta che mi interessa